Ben ritrovati amici di calciomercato.com, oggi per parlare di un talento italiano, Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 dell'Atalanta, perché è vero che c'è un'Atalanta che incanta in Champions League, che si qualifica per gli ottavi per la prima volta nella sua storia, ma c'è anche un'Atalanta, quella dei giovani, che Roberto Piccoli porta avanti a suon di gol, perché in Youth League ha segnato 6 reti in 6 partite, davvero un ruolino impressionante, capocasso, cannoniere della fase gironi in assoluto della competizione, un ragazzo italiano, bergamasco, puro sangue, che l'Atalanta è già al lavoro per trattenere con sé ancora nel proprio progetto, ha avuto diverse richieste di prestito in vista di gennaio, ma Gasperini conta tanto di lui in prospettiva, quindi Atalanta che studierà la strategia per il futuro di Piccoli, anche tante richieste da squadre che magari pensano di poterlo acquistare. Non c'è però questa possibilità, ci aveva pensato il Milan in estate come opportunità per quanto riguarda Piccoli, prenderlo magari come alternativa in più giovane in attacco, non se n'è fatto nulla, l'Atalanta lo tiene con sé. Occhio al Manchester City, perché è una delle squadre a cui ha segnato di più Piccoli durante questa Youth League, è stato proprio il City, che tiene d'occhio già tra ore dell'Atalanta, altro grande gioiellino, ma Roberto Piccoli c'entra avanti all'italiana, molto fisico, con grande personalità, grande leadership, capacità di far gol. Insomma è piaciuto molto anche ai dirigenti del City che a livello giovanile hanno sempre un occhio di riguardo per i talenti, occhio l'Atalanta a un gioiellino, è Roberto Piccoli.